ciao a tutti ragazzi buon sabato benvenuti ad un nuovo video finalmente iniziano a comparire anche se diciamo in maniera molto frazionata le barbie dream besties la nuova serie che io personalmente attendevo tantissimo e sono veramente curioso questa qui è brooklyn perché la prima che ho trovato intenzione di prendere tutte soprattutto barbie però al momento lei è quella prima disponibile che potete trovare su amazon al costo di 27 99 andiamole a vedere perché sono veramente curiosissimo allora qui abbiamo la scritta barbie dream besties consigliata dai quattro anni in su qui abbiamo un bellissimo artwork di barbie brooklyn qui ci dice seguili su youtube kids qua possiamo vedere i tanti e tantissimi accessori la scatola mi è arrivata un po ammaccata perché sappiamo che ormai amazon spedisce in quelle buste orribili quindi va beh lasciamo stare qui invece abbiamo questo sfondo rosa con la scritta barbie blue brooklyn la scritta barbie risale a diciamo al logo di barbie che c'era tra il 2005 2008 girando la scatola possiamo notare che dietro abbiamo di nuovo il logo barbie dream besties barbie brooklyn guarda su youtube kids e qui abbiamo scusate la sua scheda ciao sono barbie il mio sogno diventare una famosa coreografa attività preferite video editing e scrittura creativa materia preferita inglese colore preferito rosa non posso vivere senza il mio cagnolino qui troviamo di nuovo il suo attuo e artwork e qua possiamo vedere tutte le altre quindi abbiamo rené la barbie stupenda bellissima teresa e brooklyn ovviamente di mattel adesso la apro così la mostro nei dettagli allora eccola qua in tutto il suo splendore vabbè che dire veramente bellissima anche se ragazzi per aprirla mamma mia perché mattel ha messo dei legacci ovunque quindi è un po macello aprirla però è veramente stupenda come possiamo vedere ha un corpo diverso rispetto alle barbie che siamo abituati a vedere questo corpo palesemente riciclato appunto dalle ever after idol ormai defunte allora partiamo dai capelli i capelli sono molto morbidi lisci e fluenti al tatto raccolti in queste due code una più alta e una più bassa sono veramente molto morbidi e reduttati molto a questi tinsel arcobaleno come potete notare tra i capelli mantenuti da questa cordina da questo elastico viola molto bello questo è il suo bellissimo viso come potete vedere ha del farde del mascara azzurro e nero le lentigini del rossetto un po più chiaro avanti e sulla parte in alta dell'albero del labbro è più scuro questi mega orecchini simil oro a forma di cuore da ambe due i lati e come outfit indossa questa bellissima giacca college che fa sudare solo a guardarla perché appunto a questa parte qui delle maniche in lana molto carina brillantinosa azzurra con la scritta new york brooklyn i bottoncini ovviamente sono stampati vedete e sotto indossa questo top bianco molto semplice al cagnolino che non ho proprio rimosso visto che ha detto che lei non può vivere senza il suo cagnolino per carità e poi ha questa gonna in jeans fatte in queste varie rifiniture come possiamo vedere un attimo ve la faccio vedere meglio anche dietro anche dietro ci sono i brillantini come possiamo vedere bella giacca college e praticamente elasticizzata mentre il top è in diciamo al velcro come appunto la sua gonna in jeans vedete e agli snodi basici qui alle ginocchia e alle braccia e poi indossa queste super tacchi che sono legati a questi scaldamuscoli quindi hanno fatto praticamente un unico pezzo che sono azzurri e sono molto carini allora lei nel complesso mi piace un sacco e sono soprattutto questi capelli sono fatti veramente molto bene fibra veramente di qualità fatta benissimo adesso vi mostro tutti gli accessori che ne sono tantissimi che arrivano con lei allora come primo accessore abbiamo questa bellissima cover per smartphone con il logo barbie tutta squisciosa e la particolarità che possiamo inserire lo smartphone che è viola al suo interno vedete è molto carina come idea questa cosa che può essere inserito ovviamente va incastrato bene eccolo qua e va messo appunto fra le sue mani poi abbiamo questa bellissima borsa verde acqua con il logo barbie anni 80 e questi arcobaleni anche lei molto squisciosa quindi per riporre i suoi accessori e poi abbiamo questa oddio non mi viene in mente come si chiama lo speaker questo speaker fatto così in questo modo e poi abbiamo questi altri due abbiamo questa radio e questo qua che non mi ricordo mai il nome questo per fare i video la luce dei video scatti non mi ricordo il nome quindi è veramente super accessoriata e questa è la mia prima barbie dream besties ovviamente io non vedo l'ora di trovare proprio barbie ma le prenderò tutte perché la serie mi piace sono una novità e sono molto carine spero che questo video vi sia piaciuto vi do un bacione vi abbraccio come sempre se dio vuole al prossimo video bye bye